Si è giustificata dicendo che era in ritardo per la messa domenicale, ma per voler onorare a tutti i costi il giorno dedicato al Signore ha rischiato una strage. Grave episodio domenica mattina durante la Gran Fondo Sportful Dolomiti Race, protagonista un'ottantenne a Gordina che ha forzato il blocco stradale investendo quattro ciclisti impegnati nella manifestazione che da anni attira migliaia di appassionati sulle strade bellunesi. L'incidente è avvenuto alle 8.26. In quel momento i ciclisti stavano percorrendo l'SP3 nel tratto in falso piano tra Gosaldo e Rivamonte. Le strade sono chiuse nel periodo di passaggio della corsa. Una donna alla guida di una Peugeot 206 vuole a tutti i costi in mettersi in strada. A nulla valgono i reiterati tentativi di fermarla da parte degli addetti alla sicurezza. L'ottantenne non sente ragioni e forza il blocco. Dopo un paio di chilometri, all'altezza di una curva cieca, un gruppetto di atleti in gara si trova davanti l'auto. Inevitabile l'impatto. Quattro ciclisti non riescono ad evitare l'ostacolo e si schiantano contro la vettura. Immediati soccorsi. I feriti vengono trasportati in ambulanza all'ospedale di Agordo. Due di loro, un 49enne irlandese e un 34enne di Rovereta, se la cavano con escoriazioni e traumi lievi. Più serie invece le condizioni di due 46enni di Lucca e di Bologna che sfondano il parabrezza dell'auto. Per il primo il bilancio di un omero rotto e due denti persi, oltre a 30 punti di sutura al volto. Il secondo, il più grave, riporta invece un grave trauma facciale e la frattura del femore. Infurati gli organizzatori del pedale feltrino che annunciano il ricorso alle vie legali. Stiamo già interagendo con il nostro legale per tutelarci dal punto di vista legale perché questo è un danno di immagine senza pari. Perché il fatto che siamo finiti su tutti i giornali in prima pagina oggi, non per la cronaca sportiva ma per la cronaca nera, non è sicuramente positivo per noi ma anche per il movimento che rappresentiamo. Vi ricordiamo che la Gran Fondo Sportful Dormity Race è una delle prime cinque manifestazioni in Italia per numero di partecipanti e una delle più vecchie dal punto di vista storico. Per cui adesso insieme a tutti i nostri collaboratori con l'avvocato prenderemo in mano la situazione, cercheremo prove e sentiremo documentazioni varie di quello che è successo realmente in quel tratto di strada a Voltago e poi agiremo per via legali.